Sikel Gaida di Salerno nacque a Salerno nel 1036 e morì a Cetraro, in Calabria, il 16 aprile 1090. Fu una principessa Longobarda, seconda moglie di Roberto il Guiscardo. Figlia di Guai Mario IV, principe di Salerno, sposò Roberto il Guiscardo dopo il 1059, dopo che quest'ultimo ebbe ripudiato la prima moglie, Alberada, per motivo di consanguinità. Il fratello di Sikel Gaida, il principe Gisulfo II, manifestò un ostinato rifiuto alle nozze che furono comunque subito celebrate. Donna di grande cultura e fermo carattere, seppe affermare la propria personalità a corte ed esercitare una notevole influenza sull'energico marito, che accompagnò spesso anche nei suoi viaggi di conquista. La principessa si recò nella capitale Melfi e nell'estate del 1059 riservò al pontefice Niccolò II un'accoglienza maestosa. Sikel Gaida organizzò il primo concilio di Melfi e preparò lo svolgimento degli incontri che portarono prima al trattato di Melfi e poi al concordato di Melfi. L'alleanza tra la chiesa e i normanni avvenne tramite l'abbate di Monte Cassino, desiderio di Benevento, futuro Papa Vittore III, mentre le trame degli accordi vennero tessute da Godano, vescovo di Acerenza, legato a Roberto il Guiscardo. Niccolò II stolse la scomunica allo stesso Guiscardo, lo ricevette come suo Fidelis e lo benedisse insieme alla consorte Sikel Gaida. Malgrado gli iniziali tentativi di convincere il Guiscardo a non attaccare l'impero bizantino, Sikel Gaida fu comunque al suo fianco in questa campagna militare. Durante la battaglia di Durazzo del 1081 combatté in prima persona armata di corazza guidando le truppe di Roberto quando queste furono inizialmente respinte dall'esercito nemico. Secondo la cronista bizantina Anna Comnena, Sikel Gaida era come un'altra pallade se non una seconda Atena. Nel 1083 Sikel Gaida fece ritorno in Italia insieme a Roberto per difendere Papa Gregorio VII contro l'imperatore Enrico IV. Fu al fianco di suo marito in una seconda campagna contro i bizantini, quella che costò la vita a Roberto durante l'assedio di Cefalonia del 1085. Si dedicò allo studio della medicina e dell'ereboristeria presso la scuola medica salernitana che all'epoca rappresentava un polo di eccellenza nel campo medico officinale. Tuttavia le sue conoscenze le costarono un'infamante accusa. Secondo alcune fonti Sikel Gaida avrebbe tentato di avvelenare il figlio che Roberto aveva avuto dal primo matrimonio, Boemondo di Taranto, sebbene i due giunsero successivamente ad un accordo in base al quale la successione di Roberto fu attribuita al primo figlio nato dal matrimonio tra Roberto e Sikel Gaida, il futuro duca Ruggero Borsa.